Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, una narrazione che si dipana tra il dolore dell'abbandono, la crescita e la scoperta di una nuova famiglia, non necessariamente legata dal sangue, e di un luogo che diventa casa nel cuore. La trama del libro Quattro vite, della scrittrice Maria Teresa Montuori, pubblicato dalla casa editrice gruppo Albatros Il Filo, è la seguente. È un giorno di pioggia di dicembre quando in un paesino tra le montagne del Molise, alla porta della chiesa dell'Istituto Mater Orfanorum, Suor Anna e Suor Elena sentono piangere un bambino. Tulipan ha quattro anni quando sua madre lo lascia in orfanotrofio perché venga cresciuto dalle suore. È un bambino timido e gentile, che però ha difficoltà ad aprirsi con gli altri e fatica a superare il trauma dell'abbandono. Crescendo in convento però, piano piano, troverà una nuova madre e, col tempo, anche una persona speciale che lo accompagnerà per tutta la vita. Ma diventare adulti è complicato per chiunque e per Tulipan conciliare una forte fede, nata nel luogo che ha imparato a chiamare casa, e le sfide dell'adolescenza non sarà semplice. Oltre ai momenti difficili, la vita lo porterà anche a scoprire che la famiglia non è per forza biologica e casa non è per forza dove si nasce. È in qualunque posto il cuore si senta di poter abitare. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.